Ciao ragazzi, ben ritrovati dall'Inter di Football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi Finalmente abbiamo l'Inter più forte che da quando praticamente abbiamo cominciato questo progetto sul canale Finalmente una difesa granitica con questo super devret Centrocampo con un super Cialara, anche se l'altro Cialara è indubbiamente ottimo anche quello Un Lautaro stratosferico ma anche e soprattutto un Morkius Turam incredibile adesso come potete vedere qui Anche la panchina adesso di tutto rispetto con un Arnautovic niente male insieme a Alexis Sanchez come potete vedere Veramente non possiamo lamentarci di nulla, guarda questo carinissimo Aslani Che potrebbe anche potermi far giocare con lui direttamente mediano Potrei a questo punto anche pensare di tenermi Aslani mediano e di avere un Barella invece costruito più da centrocampista Perché come vedete qui abbiamo un sacco di punti sprecati tra virgolette per il comportamento difensivo Quindi per la difesa, punti che avrei potuto dare e per i passaggi e per il dribbling Oppure per velocità e accelerazione ovviamente, punti che non ci sono ovviamente Quindi si potrebbe fare una build di Barella completamente diversa ma in realtà per adesso Previsco avere due mediani nel ruolo E Klasen come centrocampista perché in realtà neanche Klasen ha tra i suoi ruoli principali naturali il mediano Quindi ragazzi siamo pronti come potete vedere Non vedo l'ora di fiondarmi, abbiamo già fatto una partita senza perotturare Arnautovic Poi solo dare un'occhiata agli stati di forma, Lauti Io non so se questi valgono come leggende, credo, e quindi siano sempre in B E questo potrebbe fare una differenza clamorosa nelle divisioni Perché avere un Devray, un Lautaro e un Charanoglu sempre in B Vuol dire avere un'alta possibilità di averli in un buon stato di forma Quindi praticamente sempre giocabili, questo può far la differenza Andiamo a vedere che tipo di avversario incontreremo in questa prima partita Da full Inter, reale, proprio originale, con lo stesso schema di gioco Simone Inzaghi, proprio la vera Inter adesso al massimo della sua forza Ovviamente ragazzi vi ricordo, se vi piacciono questi contenuti Di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale Perché mi aiuta tantissimo E vediamo chi è il primo avversario di questo martedì È ancora Inter Un Inter di Taranto Vediamo se avremo Due Interveri a confronto Un Interveri e una finta Penso una finta perché vedo De Ligt tra l'altro Come difensore Tutti che stanno più o meno bene Qualche difensore un po' meglio Andiamo a vedere in panchina C'è solo Sanchez che sta meglio Degli altri Ma io voglio provare la Voglio provare Lautaro Durama praticamente La loro nuova partita Voglio provare Per il resto tutti abbastanza bene Nessuno che emerge sugli altri Voglio controllare nei ruoli in partita di aver messo De Vre Ma mi pare di sì De Vre Pavar Perfetto Ci teniamo un difensore indietro Un Inter con un 3-4-3 Dunfri sulla destra E Di Marco Barella a centrocampo Quindi un po' di Inter c'è e come E Saeda ragazzi Quindi io vado a mettere le marcature Su Neymar E Mbappé Siamo pronti Sono ragazzi Genuinamente contento Di poter Provare questi giocotiri Perché adesso È comunque una squadra Praticamente al top Ci sono indovamente Dei ruoli in cui Si potrebbe far meglio Ma Diciamo che il salto in avanti È stato fatto E di parecchio Soprattutto per la panchina E si parte Quindi Marco Si è venuto a firmare Durama Bravo Dunfri Recupera È servito da Mkhitary Non può andare Dunfri Che bravo Dunfri su Di Marco La mette al centro Sta arrivando Durama La palla che Si impenna La palla che prova a prenderla Poi Barella Che prova a calciare Ma Dunfri Se va a fermarlo Qui già in ritardo Devre Capisce tutto Bravissimo Bravo Barella Servire c'è la Noglu Che salta Dunfri Ma non L'altro Barella Devre Perfetto In chiusura Bravo Ci ha da allargare Per Di Marco Che ha tanto campo Sulla sinistra Può andare Di Marco Il classo al centro Sta arrivando C'è la Mamma mia Qui era Lautaro Forse Poi c'è la Noglu Giro E Cannepara Ma Non male A provare colpo di testa Lautaro Tutto chiuso qui E mi torna indietro L'Inter che gestisce Con Barella E qui Lautaro Fermato C'è Morientes Se ho capito bene Non l'avevo visto In panchina Poi Devre Che chiusura Poi allarga Per Dunfri Spazio per l'Inter Sulla destra Può scendere Attaccanti visti un po' Poco Se devo dire La mia per adesso C'ha la C'ha la che prova Questo passaggio Qui aveva fatto Un D-Bling E mezzo a due Ma comunque Molto chiuso Bravo ancora Dunfri Di scoprare questo pallone Bravo Miki Mamma mia Miki In aria apertura Mamma la chiusura Di Bellingham È perfetta Bravo Bastoni anche lui In chiusura Barella Fermato da Bellingham Attenzione qui all'Inter Che deve stare attenta Ancora Un'altra chiusura Di Devre Che si sta dimostrando Semplicemente Incredibile Poi c'ha la Qui Vedete che la velocità Si sente che non è la stessa Poi l'1-2 A cercare Lautaro Davanti a Can Che non sbaglia 1-2 Per effetto Ma anche la giocata Di gioco al centro campo Ovviamente qui Fa tutta la differenza Del mondo Poi 1-2 Lautaro Duram Facile facile 1-0 Per la vera Inter Per la vera Inter Subito A recuperare il pallone L'Inter Proprio con Lautaro Che accede La palla al piede Può andare Qui ne salta uno Lauti Ma non può saltare Il secondo Ma la palla È di nuovo Nera azzurra E qui Più che per Lauti Era per Turam Che per ora È stato colpito Forse Anche fallosamente In avanti Devre Mamma mia ragazzi Sta facendo veramente Un lavoro incredibile Devre Negli anticipi Ciala Si fa vedere Di Marco Che può entrare in aria La mette al centro Dall'altro lato C'è Turam Che non può sbagliare Di Marco A marcare Turam C'è una netta differenza In termini di statura 2-0 Con la nuova maglia Con la nuova maglia Perché questo E' un nuovo Turam Un po' lento Qui Barla In questo stop Poi se la va a riprendere Però Poi Ciala Larga per Di Marco Di nuovo L'unito Perfetto Poi Di Marco Che ha provato a servire In qualche modo Ciala A recuperare questa palla In qualche modo Ci riesce Poi Miche A cercare Lauti Che non aggancia Peccato Turam non ci ha creduto Ma in realtà Nessuno si aspettava Che Lautaro Non agganciasse Questo pallone Ancora Barella Mamma mia Ciala Ancora un'altra Grande giocata di tecnica C'è il tra campo Di Marco Tutto chiuso Di nuovo Ciala Anoglu C'era fallo Però ragazzi Bastoni Bastoni In chiusura E l'Inter Prova a ripartire Proprio con Ciala Provato il numero Poi Lauti se la riprende Provato a calciare Non ci siamo riusciti Capisce tutto Barella In aria per Lautaro Che calcia col destro Diciamo che adesso Non so se è solo questa partita Ma si vede un po' Che c'è la finalizzazione alta Perché riusciamo a segnare facilmente Anche senza tiri speciali Senza tiri caricati speciali O senza tiri a giro Che si vede un po' Che forse la finalizzazione è 93 Ragazzi Non ricordo se è 93 96 Tantissimo Si vede Punti facili direi Voglio vedere un attimo Effettivamente quanto hanno Lautaro 93 in finalizzazione E si vede Si vede ragazzi La differenza Quindi direi Partita che è durata Meno di un tempo Ve ne propongo subito un'altra E chissà che non riusciamo Negli episodi di oggi Ad arrivare direttamente In divisione 2 Perché se non sbaglio Sono 1500 i punti richiesti Siamo a 1454 Prima metà partita Che si è conclusa Molto rapidamente Con un 3 a 0 Al trentesimo No pay to win E questo è un attraversario La Germania Con Matthaus Icona Turamo che sta bene Anche Ciala Qui possiamo vedere Pavara Informissima Anche Darmian Potrei quasi preferire A Doomfries Eventualmente Anche se passaggio alto 82 Doomfries 83 83 Non stavo meglio Devo un attimo controllare Anche poi Le 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 abilità giocatore Ragazzi Devo metterle sicuro Le voglio mettere Prima del prossimo evento Vediamo Abbiamo un 3 Di nuovo Non è un 3-4-3 Questo E' più 3-5-2 Dobbiamo dirla Con Dembélé Ci sono due CLS e CLD Molto Molto offensivi E neanche un mediano Quindi Versailles A noi sarà abbastanza scoperto Ma vediamo Io la differenza Non metto le marcature Ragazzi Perché non avendo esa Eda Non so Lui su che cosa Si orienterà E di solito Lo sapete Su CLS e CLD E' un po' difficile La situazione Di le marcature Forse non viene Mettere la marcatura A uomo Cioè tipo Doomfries Su quello che gioca a sinistra E Di Marco Su quello che gioca a destra Ma Più che altro Io mi sto trovando benissimo Ho visto Non so se avete visto ragazzi I movimenti di De Vrij Automatici Che andava Ad intercettare il pallone Che si trovava Al posto giusto Al momento giusto Si vede La differenza Si vede come Sarà l'Inter A battere questo calcio d'inizio Che brutto Che è brutto questo passaggio Di Mkhitaryan Peccato Regalone per Lautaro Ciala In aria Per Per Morkusturam Mamma mia Si salva qui La Germania Come inizio Cambio di gioco Dall'altro lato c'è Di Marco che anticipa Poi Ciala Ancora l'Inter Qui Ci schiata un po' troppo Poi Dludiker Che anticipo Che ha fatto Bastoni Perfetto In questa chiusura Riparte Di Marco Parla a piede Si fa vedere Ciala Noglu Visto e servito Ciala Subisce fallo Era riuscito a dare il pallone Fallo ripetuto Però di Non ho Ma non ho capito Chi è questo però Cioè Di Marco Alla battuta Ciala giro Eh mica male l'idea Ah è Zico Se non sbaglio Si chiamava No pay to win Questo C'è anche Michael In porta Forse è un po' confuso Sul significato di pay to win E avrei per bastoni Mentre che prova a ripartire Con calma A cercare Marco Sturam Farà sponda Riesce A cercare A servire Lautaro Ancora per Marco Sturam Ah Michi Che si è fermato Non ti fermare Michi Dai Bravo Ciala Per questo pallone Anche in fase di interdizione Ciala Noglu Poi l'audio Ancora per Ciala Noglu Perdi Marco Che si infila Centralmente a cercare Marco Sturam Che prova a girarsi Ma non riesce a calciare Ah ancora Ciala Che lavoro In interdizione Poi sbaglia Per il passaggio in avanti Michi Che lavoro di Michi Ragazzi Che lavoro di Michi Davvero Poi Pavard Che rilancia per Marco Sturam Che prova ad appoggiare Lautaro Anticipato però Mamma mia Che chiusura di Pavard Perfetto Anche Pavard Gioca bene Questa Germania Questa Germania Manzico Mamma mia Il tacco deviato La gran chiusura Dell'Inter Allora Marco Sturam Lauti che vede Ciala Noglu Vi si è servito Che prova a cercare Marco Sturam Poi il lancio in avanti Con l'anticipo Può scendere Barre Lautaro Lautaro fa tutto Solo il calcio Calcio d'angolo Adesso con Lautaro Ragazzi Posso fare queste giocate Perché accelera Incredibilmente Velocemente Per Pavard Che la mette al centro C'è Turam La parata Poi Mkhitaryan Ancora Incredibilmente Oliver Kahn C'è Ciala Col pallone Indietro Deviata C'è Marco Sturam Deviata ancora In calcio d'angolo Ha provato Marco Sturam A giro Si è trovato Nella zolla di sinistra Ha provato a calciare Inter Che continua A spingere A questo punto Io Provo a giocarmela su Stefan De Vray Contro Bellingham La mette al centro C'è Lautaro che calcia Non ci credo E qui c'è il fallo Di Marco Sturam A recuperare questo pallone Ma avevo premuto il tasto Ragazzi Per calciare Non per fare il contrasto Ovviamente In avanti Con De Vray A sovrastare tutti A servire Barella Qui Perde il pallone Bari Però E se lo fa riprendere Di prepotenza Allora Ciala Lauti Serve Di Marco Ancora per Cialanoglu A cercare di nuovo Di Marco Che si infila Vede al centro Marco Sturam Lo serve Marco Sturam Non può sbagliare Ed è 1-0 Inter Perfetta La palla di Federico Di Marco Che bravo Che bravo Barella A intercettare Riparte Di Inter Miki Miki Può andare Miki Entra in area La mette al centro Sta arrivando L'audio Anticipato All'ultimo momento Messi che vince il contrasto con Bastoni Questa è notizia Però Bastoni se la riprende Di nuovo l'Inter Poi l'audio Cercare Marco Sturam In area Marco Sturam Che giocata 1-1 Manda al barre il difensore Fa 2-0 Facile facile Mamma mia Che brutto errore Qui il regalo Per Mbappé Che non sbaglia Sottofort Abbiamo fatto un regalone Con il passaggio di Barella In questo caso Non avevo visto Che c'era Il suo giocatore Pronto a intercettare Peccato Peccato L'ho visto troppo tardi Di fermare Dunfrees Va direttamente sull'uomo Al 43esimo Inter Germania È 2-1 Bravissimo Devrei In uscita Ho accelerato troppo Qui mi sono fatto fregare Con l'Audi Non pensavo di averla presa Sta palla E' palla Spazzata alla fine Vediamo se Marco Sturam Riesce a tenerla troppo Ma c'è ancora il tempo Però perché siamo Al 47esimo In realtà manca Un minuto e mezzo Alla fine del primo tempo Quindi 3 di recupero Lautaro a cercare Marco Sturam Non ci arriva Marco Sturam In avanti Attenzione C'è Barea Al recupero Può mettere un buon cross Al centro C'è il lato Dall'altro lato Come ha fatto ragazzi Come ha fatto a mettere fuori Io non ho parole Non lo so come ha fatto a mettere fuori ragazzi Inter in dominio totale Il nostro avversario Un tiro Un gol Tra l'altro Arrivato Da un erroraccio In uscita I nerazzurri Sono stato disattento Ragazzi Voglio dare un occhio Più Preciso Al 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 radar L'Inter Prova a ripartire qui Cercare Marcus Che Prova a tenere Questo pallone Bravo Dunfres Di nuovo per Marco Sturam Mamma mia Michi ha provato Una giocata incredibile Qui Poi Di Marco Cercare in aria Ciala Calcia col sinistro Smorzato E palla diventa facile Facile per Oliver Kahn Poi Lautaro Martínez Si gira Le calci Speciale Anche Palo Goal Imprendibile Per Oliver Kahn E 3 a 1 Altissima per Roland Anticipato C'è Michi Peccato Qui c'ha la Che non Non si è fatto Vedere per Ricciare questo Pallone Barella Ragazzi Stavolta Spazzo Evito Di regalare Un altro Goal agli Avversari Bravo Dunfres All'anticipo Poi Marco Sturam Di tacco A cercare Proprio Dunfres Che corre Sulla destra Ancora per Marco Sturam Cialanoglu Che può Colciare col destro Ancora una volta Murato È rimpallato Palla facile Per Oliver Kahn Pavar In anticipo Poi Mkhitaryan A cercare Dunfres Marcus Sturam Di nuovo Per Dunfres Che arriva sul fondo La mette al centro C'è Lautaro La palla Anticipata Palla che passa C'è Di Marco Col sinistro E Oliver Kahn Che vola In calcio D'angolo È veramente Un tiro al bersaglio Questa partita Inter Informissima Anche Di Marco Ho provato a partecipare Alla festa Di questi gol Però c'è Rudy Che rimarca Dora Quindi è difficile Che dovrei Passa a vincere Anche se la palla Resta lì Poi Mkhitaryan Cercare Bare In aria Con il sinistro La gran parata Ancora di Oliver Kahn Passaggio per Palmer Cambia tutto Mamma mia Bravo Dunfres Poi se ne va Sulla destra Può andare Ancora Dunfres Il cross al centro Lauti Che apparato Schmeichel Non era call Ma Schmeichel Ragazzi mi sto confondendo Poi Mkhitaryan In aria Cercare Morkus Duram Non era mica male Questa idea Errore Perché Di Marco Anticipa E riparte Lauti Un pizzichino In ritardo In questo caso Ma di nuovo Di Marco Al recupero Cercare Lauti Ma c'è Rudy Che era attentissimo In marcatura In questo caso E qui Solissimo Palmer Sulla destra Può andare Mamma mia Si salva l'Inter Poi Mkhitaryan Marcos Turam Che vede Lo scatto Di Lautaro Non era male L'idea Spaglia Qui c'halla Poi Di Marco Che apre Per Mkhitaryan Dunfries Turam 1-2 Ancora Per In aria Turam Per Lautaro Al 74 A chiudere La partita Il Toro Bravissimo Anche Turam A vedere con la coda Dell'occhio Il capitano Facile facile L'appoggio Facile facile L'appoggio E di Turam E di Lautaro Versario Che non ne può più A questo punto 30 minuti Della prima partita 70 dalla seconda Ecco voi Siamo a 16 punti Dalla seconda divisione Un paio di vittorie positive Che ci mettono Decisamente Sulla strada giusta Ragazzi È tutto Per il primo episodio Di oggi Vi ringrazio per aver guardato E ci vediamo Alla prossima